Stivaletto Toz, mio padre mi regalò una scarpetta della Toz perché noi per un periodo abbiamo lavorato per loro, facevamo le tomaie, io la chiamavo la scarpetta coi tacchetti perché aveva i pallini Toz, azienda stupenda non so se siete mai stati a casette d'ete, Diego il grandissimo ha fatto un'azienda da paura in poche parole diciamo che fa gambare tutto il paese, comunque il cliente lo ha portato ha detto entra l'acqua grazie entra l'acqua tutta sbucciata qua vedete è tutta completamente crepata però adesso facciamo il miracolo cambio fondo fatto qui è stato veramente molto molto faticoso perché abbiamo inserito il guardano nuovo tutto quanto e poi abbiamo dovuto trovare un fondo molto molto largo è stata difficile però alla fine abbiamo messo un V-Lite della Vibram un cararmato molto molto leggero ce l'abbiamo fatto ragazzi è uscito proprio un bel lavoro ciao a tutti dal maestro